Musica Poltronissima alla grande, evento OAS, terza serata, guardate con chi siamo, Pamela Camasa, benvenuta a Torino Beh, grazie e benvenuto Grazie Fai te, posso dire una cosa, Torino rimane sempre una delle città più belle che abbiamo in Italia, se non... Grazie Che bello questo, grazie Pamela Ma è vero, è vero, è verità, giuro Allora, questo evento OAS sta avendo un grande successo e la domanda che ti faccio, insomma, è cos'è per te lo stile, Pamela? E ne hai da vendere, direi Eh, è molto semplice La prima cosa che capitava, vero oggi? Sì, in Armagno mi è capitato questo Beh, lo stile è importante, è importante perché dà carattere alle persone, non che sia l'abito che fa il monaco, perché non è mai vero Però comunque dà un aiutino, in particolare stasera io mi sono innamorata di Tom Rebbel Sì, è vero, è una bellissima sfilata Che... Osa molto Osa tantissimo, uomo-donna, grintoso, grintoso, ma per dire, le donne tutte coperte, ma avevano grinta e quindi è un messaggio questo E erano molto femminili, quindi è bellissimo Senti, com'è stata l'accoglienza qua a Torino, Pamela? Allora, ancora devo carburare perché sono arrivata... Sono arrivata... Oggi pomeriggio mi sono cambiata e sono venuta qua Però diciamo che, insomma, a parte no, sono arrivata e diluviava È vero? Ok, va bene Però faceva caldo, quindi va bene Però si respira sempre una bella aria Io sopra più di una volta a Torino, purtroppo non l'ho girata mai tantissimo perché sai, fa sempre toccata e fuga È vero Però mi piacciono molto anche i torinesi Devo dire che sono molto accoglienti Ancora che dicono che il nord... Brava, Pamela, esatto, sfatiamo questo... Sfatiamo, io sono toscana e ho parenti, mio padre è pugliese, quindi... Però anche il nord, cioè, insomma, è tutta l'Italia Questo è allenato tutto, il cuore ce l'abbiamo tutti, caldo, caliente E dobbiamo ringraziare tanto Alex Pacifico perché è un grande organizzatore, un grande direttore artistico E avere tutte queste star a Torino in questi giorni ci fa veramente piacere, Pamela Guarda, Alex è una persona meravigliosa, la conosco da un sacco di anni ma collaboriamo, insomma, da poco tempo È giovane, infatti ha tante idee e non a caso ha portato questa cosa meravigliosa Speriamo, insomma, che sia la prima di tante edizioni E noi ti aspettiamo di nuovo a poltronissima, Pamela A braccia aperte E io, guarda, vi abbraccio anche io, vi abbraccio Grazie, Pamela Camasa, un amore bella e brava Ciao Ciao Ciao